Nuovo sitino oggi dinanzi all'emiciclo da parte delle associazioni che lottano contro la caccia ai cervi che inizierà lunedì perché la regione ha deciso di andare dritta per la sua strada. Il WWF dopo la delusione del TAR ha annunciato il ricorso al Consiglio di Stato. Loro, come pure altre associazioni presenti come l'Avocai, associazione più numerosa, avevano proposto soluzioni alternative come la recensione ad esempio perché l'abbattimento non risolverà il problema, dicono. Sicuramente dopo la decisione del TAR abbiamo avuto un momento di grande delusione perché stanto così le cose lunedì si comincerà a sparare al cervo in Abruzzo. Abbiamo deciso però di non arrenderci e fare l'ultimo passo che ci è consentito cioè quello del ricorso al Consiglio di Stato. Cercheremo di provarle tutte per evitare la mattanza dei cervi in Abruzzo ma cogliamo l'occasione oggi per ringraziare anche le tante persone che in questi mesi ci hanno sostenuto che credono che l'Abruzzo debba scommettere sulla propria natura e che i cervi non siano dei bersagli dei cacciatori ma degli animali da ammirare. Ma c'è di più perché l'Associazione Appennino Ecosistema ha annunciato che da lunedì inizieranno con denunce penali nei confronti dei cacciatori ma anche del Presidente della Regione. Questo ovviamente se si inizierà con l'uccessione degli animali. Da lunedì presenteremo delle denunce formali contro gli operatori venatori, detti anche cacciatori, che si macchieranno di questi reati e contro lo stesso Presidente della Giunta regionale. Perché? Perché questo tipo di azioni non è ammissibile senza una preventiva valutazione di incidenza ambientale che non è stata fatta. L'ordinanza della Tar non è sufficiente perché è una via amministrativa, io sto parlando di via penale e quindi le nostre denunce saranno per mancanza di valutazione di incidenza ambientale, per deterioramento potenziale di habitat e specie di interesse dell'Unione Europea a carico dei cacciatori e qui andiamo a 5 anni di arresto e fino a 100.000 euro di sanzione. A carico del Presidente della Giunta regionale ci sarà una denuncia per favoreggiamento, un articolo del Codice Penale che prevede una pena fino a 5 anni di reclusione perché lui è il rappresentante legale di questa regione che sta consentendo, se lunedì ci sarà effettivamente l'abbattimento, di commettere dei reati. Questo è il reato di favoreggiamento.